Kate, ascolta, io e te dobbiamo parlare. Allora tu pesi un po' troppo, sei bellissima, sei sempre bellissima, pesi un po' troppo, perché ad agosto dobbiamo andare in vacanza e tu pesi tipo due chili in più del limite massimo per entrare nel trasportino sull'aereo, quindi esso noi proviamo a pesarti. Prova, prova, salta su. Io voglio più. Sì. Ah, tu pesi 80. Ti do in braccio la Kate. Allora, con la Kate in braccio sei 88 e mezzo circa. No, scusa, 78 e mezzo. Se facciamo palestra aiuta. Tonta? Vai su, sei già stanca? Sei già distrutta. No, non ha carezzi. Prima giochiamo, dopo ti do la carezza. Vai, una. Una sola. brava, brava. Kate, devi muoterti. Non puoi stare fermo. Vieni Kate, vieni. caiti. No, questa bambina è un problema, non vuole correre Kate, non si può dire magari che sta andando per me Che c'è che ti fa Kate? Che ti fa questo uomo? Aiuto, vuoi aiuto dalla mamma, vuoi aiuto, 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 mi vuoi far dimagrire E io non voglio dimagrire, io voglio stare bella cicciotta, sì, io voglio stare cicciotta Sì, io sto perdendo le speranze con te, noi non potremo andare al mare per colpa tua No, controlliamo quanti gradi ha oggi l'acqua dalla piscina 26, perfetta, gradevole direi Una sola, un po' deluso Una vasca sott'acqua che speravo di fare di più ma si vede che anch'io sono fuori allenamento a livello della Kate più o meno E niente, proveremo magari i prossimi giorni a vedere di aumentare questo livello Di riuscire a fare almeno una e mezza e col tempo anche due Adesso andiamo a prendere Alvio a casa sua, che poi ci facciamo un'uscita insieme a lui, ve lo faccio conoscere E io penso che questo vlog andrà a finire molto male stasera conoscendo il personaggio A dopo Allora, una cosa che non ho detto è che Albi di solito è sempre in ritardo di almeno un quarto d'ora, venti minuti Quindi adesso vi farò vedere le ore, cioè le 21, no scusate le 22.11 E vedremo che ora riusciremo a uscire Vi farò vedere quanto è il ritardo di solito Albi Eccolo qua Albi Ciao Non si vede molto perché c'è poca luce Sono qua, ciao ragazzi Ho fatto un ritardo di... Sono, aspetta, le 22.44 Non so se si vede Comunque 22.44 No, non troppo Dai, consideriamo un 33 minuti di ritardo Sì, sì, ci sta Comunque, tu sei Alberto Se il mio grado è lì che Alberto ancora non ti hanno visto perché tu sei sempre a Verona ultimamente Sei sempre in conservatorio Sì, però io... E sei sempre pieno di donne, tipo ieri sera... Sono troppo pieno di donne Che mi hai bidonato per una donna Per una donna che dopo ieri sera si è rivelata un fallimento completo, sì E vabbè, è sempre così Albi Però il pomeriggio era andato bene Ok, beh allora Sempre con... Metà e metà, 50% bene Esatto Allora porto a casa E adesso andiamo all'Aeriscenza Andiamo a divertirci A dopo bro Loro non sono mai stati all'Aeriscenza No, ma sei sicuro che andiamo all'Aeriscenza? Beh, dopo vediamo Ok Ciao ciao Allora, diciamola, mettiamola così Abbiamo incontrato il tuo insegnante di chitarra Sì E il mio insegnante La mia guida spirituale Sì La tua guida spirituale E praticamente abbiamo parlato che loro avevano appena fatto una seduta di teta healing Sì Non ho ben capito cosa sia Però hai delle visioni forti Però mi interessa perché potrei avere delle risposte a delle domande a cui cerco delle risposte Esistenziali Esistenziali Potresti capire a tipo il significato della vita Beh, non è che mi interessi molto O se la terra è piatta e tonda per esempio Sì, quello sarebbe... Beh, la terra comunque è piatta, non c'è bisogno di avere risposte Posso evitare che è il più blu? Se entrate nel... Se entrate nel video, sì Entriamo nel video? Ciao Ciao, guardate che bello ragazze Tutti sono più blu, eh? Sono più blu Ciao Allora Dicevamo Viva di incontrare le strafighe Non voglio sta roba Sì, neanch'io, però aspetta Robby No, neanch'io In ogni caso Allora, abbiamo conosciuto tre tipe adesso al tavolo Solo che non l'abbiamo potuto vloggare perché non ne conoscevamo ancora Comunque scusate il piattone perché sono salita a 90 gradi pazzesca Ecco Però, insomma, le abbiamo conosciute Erano esotiche, ragazzi, ragazzi Sì, ragazzi Parlavano una lingua strana ogni tanto tra di loro Sì, noi non capivamo Speriamo che fossero complimenti Adesso comunque, no, non credo Comunque sono di Verona e adesso Gallo verrà spesso a trovarmi perché Eh no, l'una è di Verona, l'altra è di Mantua e l'altra... E l'altra è di Verona, tipo Te due è di Verona, credo Lavora nello stesso tipo, nel stesso posto Ok Sì, è vero, è vero che ho detto Buon, e quindi per il momento è andata bene Figa, cool Sì, ricapitolando Vabbè, abbiamo conosciuto tre, beh, tre ragazze Di cui Gallo ci proverà con una Perché... Chiediamo È parecchio stupida E quindi Gallo ci vuole provare Io ci provare con un'altra Che è un po' meno stupida Sì Ma tu vuoi provarci con quella... Quella che è in parte a te? Sì Ok Che c'è scritto che è fidanzata Sì Però io gli chiedi lo stesso Ma giusto per fare, sì Io gli chiedo lo stesso Albi glielo chiede lo stesso Cazzo non frega Cazzo mene Cazzo mene Esatto Ok E adesso me ne torno a Baita, Verona Peccato Però ci vediamo presto Mi sto asciugando nella lacrima, ragazzi Ci vediamo presto Ci vediamo prestissimo Ci vediamo presto Merde Buon Diamogli la buonanotte Buonanotte amici Di qualcosa Teta healing Peace Ah Iscrivetevi al canale E mettete un like Sempre al video Grazie